Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita! Trovi le lampadine BOLC usate in questo video solo sul sito Mr. Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per far durare di più le lampadine, ti consigliamo di non toccare mai il vetro con le dita o, se lo fai, di pulirlo bene con carta assorbente prima di rimetterle a posto. Apri il bagagliaio e trova il dado a farfalla di plastica che fissa il faro. Svitalo ruotandolo in senso anti-orario. Tira sul faro delicatamente in senso orizzontale per rimuoverlo. Rimuovi il connettore di alimentazione. Per farlo, spingi sulla piccola linguetta di plastica e allo stesso tempo tira sul terminale. Rimuovi la piastra di supporto della lampadina spostando le linguette dal supporto. Le lampadine si tolgono tutte allo stesso modo. Spingi e ruotale di un quarto di giro. Prendi la nuova lampadina. Per rimontarle, esegui l'operazione al contrario. Rimetti in posizione la piastra. Basta posizionarla nel verso giusto e spingerci sopra. Riattacca il connettore elettrico. Rimetti il faro nel suo alloggio. Riavvita il dado a farfalla e bloccalo a mano. Operazione conclusa. Riavvita il